Francesco ancora una volta ti sei consolidato ad altissimi livelli. Al Mondiale in Messico due medaglie d'argento. Sì diciamo che soprattutto la seconda medaglia è stata alquanto inaspettata nel senso che comunque è una medaglia storica nel senso che non era mai capitato nella storia del muoto italiano paralimpico che la staffetta 4% stile riuscisse ad arrivare a podio in una competizione come quella dei mondiali. Invece per quanto riguarda l'argento sui 400 stile libero diciamo che per certi aspetti non sono riuscito a dare il mio meglio. In parte per i problemi legati all'altitudine quasi 2300 metri, in parte forse legati a una gestione della gara troppo aggressiva all'inizio però io sono sempre l'idea che comunque si possa imparare tantissimo dei propri errori e che comunque non bisogna farsi mai fermare ma anzi bisogna cercare di imparare e quindi di andare avanti. Quanto influisce sulla preparazione di un grande evento come il mondiale e lo spostamento che c'è stato di due mesi praticamente? Beh diciamo che lo spostamento ha avuto un ruolo alquanto negativo almeno per quanto riguarda la mia condizione personale. Diciamo che se le gare ci fossero state nel momento in cui ci dovevano essere quindi due mesi fa di sicuro sarei stato più pronto e anche più libero mentalmente. Il fatto che siano state posticipate ha giocato di sicuro in maniera negativa però come mi ripeto sempre comunque il grande atleta che forse in questa occasione non sono riuscito ad essere deve essere al di sopra degli eventi di qualsiasi condizione fisica o psicologica deve riuscire a dare il meglio anche quando lui non si sente al meglio. Per l'Italia in generale comunque un mondiale molto positivo abbiamo visto anche dei servizi attenzione sui giornali a questi risultati. Ci diciamo che per l'Italia possiamo definirlo quasi un mondiale storico nel senso che per la prima volta il nuoto paralimpico è riuscito a piazzarsi nelle tre prime posizioni della ranking mondiale. Davanti a noi sono arrivati soltanto la Cina e gli Stati Uniti è un risultato storico perché comunque noi purtroppo come nazionale anche se investiamo molto comunque non abbiamo i grandi numeri che hanno nazionali come quelli della Cina e degli Stati Uniti però l'impegno, la volontà da parte dei tecnici e degli atleti e il durissimo lavoro che è stato fatto in questi anni è dimostrato che comunque anche con risorse inferiori e soprattutto con un numero di atleti inferiore perché dobbiamo ricordare che noi eravamo soltanto in 11 mentre invece la Cina erano in 22 e gli Stati Uniti erano in 19 siamo riusciti a portare a casa un numero di medaglie elevatissimo 38 di cui 20 ori, una medaglia in meno rispetto alle medaglie che abbiamo portato a casa noi come movimento paralimpico tutto complessivo di tutti gli sport alle Paralimpiadi di Rio quindi è stato un risultato enorme che segna quanto il moto paralimpico sia cresciuto in questi anni e sia continuando a crescere La rivincita quando sarà? La rivincita spero che sarà a Dublino l'anno prossimo nel 2018 di sicuro adesso questo qui è un momento di grandi riflessioni bisognerà comunque capire che cosa non è andato correttamente bisognerà capire cosa è andato storto dovrò prendermi anche un po' di riposo perché comunque dopo che mi ero preso appena una settimana, una settimana e mezza di riposo poi c'è stato un altro anno lunghissimo però poi da quando ricomincerò bisognerà ricominciare con la testa ben attaccata al collo, ben determinati cercando di migliorare la tecnica e cercando di lavorare su tutti i dettagli grazie